problemi con il trasporto gestito dalla litta angelina per conto del comune di teramo proprio a teramo 15 bambini rischiano di rimanere a piedi perché non sarebbero in regola con la retta mensile si è successo questo ieri è stato comunicato ai lavoratori un elenco di ragazzi che non sono in regolo con il pagamento del servizio di trasporto e quindi è stato detto di non farli salire sul pulmino nel pomeriggio di ieri poi è stato detto che chi non ottemperava questo ordine avrebbe anche ricevuto dei provvedimenti disciplinari importanti noi riteniamo gravissimo questo episodio non solo perché viene preso nei confronti di bambini di piccola età insomma ma anche perché espone i lavoratori ha un problema anche di sicurezza nel rapporto con i genitori e soprattutto perché viene fatto attraverso un ordine di servizio non firmato da nessuno un foglio in bianco dove ci sono solo i nominativi dei ragazzi e questo si aggiunge anche al fatto che i ritardi nel pagamento degli stipendi questa mattina è arrivata la convocazione del prefetto e per il 2 di maggio siamo convocati insieme all'amministrazione comunale e alla ditta angelino il sindaco di teramo proprio ieri ci ha dichiarato che il comune ha sempre pagato regolarmente la ditta angelino però poi alla fine i fatti sono diverso dimostrano che ci sono due mesi di arretrati ancora da pagare i fatti sono questi qui ogni parte dice di essere in regola e ogni mese i lavoratori sono senza stipendio e quindi il sindaco dovrebbe pagare un po prima e l'azienda e l'azienda dovrebbe pagare immediatamente i lavoratori